Giornata particolare per San Nicola di Giovi, una delle tre chiese tenute da Don Salvatore Aprile. Giornata dell'Immacolata, sentita particolarmente dalla comunità che oggi ha ricevuto la visita di Monsignor Luigi Moretti, arcivescovo di Salerno. Giornata ricca di tradizioni, come quella del presepe e della distribuzione del pane benedetto. Per l'Immacolata c'è la tradizione di questo pane che viene benedetto e poi distribuito ai fedeli dopo la messa, dopo la processione, dopo le varie attività che si fanno. Quindi non mancherà su nessuna tavola questo pane? No, assolutamente, oggi sì, sarà presente sulla tavola il pane dell'Immacolata. Nasce con San Francesco, 1300, la tradizione del presepe che rivive ogni 8 dicembre precisamente in tanti luoghi, in tante case, ma anche in tante comunità, anche qui a San Nicola. Sì, è il terzo anno che abbiamo deciso di abbellire un po' queste stanze con questo presepe fatto da noi, con le sagome dipinte a mano e poi abbiamo realizzato i vari elementi che poi sono presenti nel presepe della tradizione. La festa continua con una processione per le strade di Giovi e con una festa che unirà tutta la comunità con castagne, caciocavallo dell'impiccato, pizzette fritte e zeppole. Anche questo un modo per dire che Natale è ormai vicino.